Amici dello sportello del cittadino, rieccoci a Lama con Trada San Domenico, via San Domenico, sono tante le criticità della zona. Ho nuovamente al mio fianco Gino Nuzzo perché davvero qui accade l'incredibile. Guardate l'assurdo, una fermata degli autobus dell'Amat sul ciglio della strada, completamente immersa, allocata tra le erbacce sul ciglio della strada. Mi domando, il malcapitato che deve prendere il pullman per non essere investito dovrà stare nell'erbacce, ora sono state un po' pulite, tagliate, e per non parlare dell'assenza assoluta di una pensillina, immaginate il caldo d'estate e la pioggia d'inverno. Sì dottore, ha detto bene, c'è proprio l'assenza di una programmazione sul territorio. Quando parlo di assenza parlo, come abbiamo detto prima, dell'Amiu e soprattutto adesso con l'Amat. Ma è mai possibile? Voi vedete qua tra le erbacce l'inverno, quando piove, ma anche l'estate sotto al sole, come ha detto l'epoca, manca una pensillina, ma non solo qua, ma anche altrove, dove la gente deve poter mettersi ad attendere molte volte 20-30 minuti, se non di più, quando saltano anche le corse, ad aspettare sotto al sole, sotto la spioggia. Qua ci sono gli studenti, le massaie che devono andare a fare la spioggia e rientrare. Il caro signor Presidente dell'Amat, io mi chiedo, ma veramente qualcuno vigila sulla zona? Ma le vedete queste cose? Ma se solo noi cittadini non le vediamo? No, ma poi l'assurdo è che già i pullman, gli autobus, hanno una frequenza davvero orrenda, perché bisogna aspettare mezz'ora, tre quarti d'ora, se non di più. Immaginate una persona anziana, la mettete sotto il sole d'estate e la mettete sotto la pioggia d'inverno. Io penso che qui proprio le condizioni del rispetto umano non esistano. Ha detto delle parole sacrosante, dottore. Non esistono, non c'è il rispetto della persona. Noi parliamo di città a misura d'uomo, ma qua non è neanche, scusate, vi chiedo scusa per le bestie, ma neanche a misura di bestia. Lei vede, stiamo parlando della fermata, ma parliamo anche di sicurezza stradale. Guardi il manto poi più là, come sta ridotto in via San Domenico. Guardate il manto stradale come sta ridotto. Insomma siamo figli di nessuno. Eppure, cari, cari tutti quanti amministratori, noi paghiamo le tasse, ma come ve lo dobbiamo dire? E' l'assurdo, si mette in favore di telecamera, è che abbiamo consiglieri comunali di Taranto che abitano qui. Questo è l'assurdo. Non è il caso di fare nome e cognome, noi sappiamo chi sono. Ma vi fate, o non dico assai, una volta al mese. Io li faccio i nomi, Lucio Lonuce, Di Gregorio, Stellato. Abitate qui, aprite gli occhi, cavolo. Grazie.